Sempre nel quartiere di St. George, che è il più famoso poiché si trova vicino al terminale dei traghetti, vista appunto la vicinanza con lo stesso potete organizzarvi per una visita allo Staten Island Museum, un museo che è stato fondato dall'Istituto delle Arti e delle Scienze e infatti si specchia un po' questi interessi. La sezione più interessante è proprio quella chiamata All of Science, dove è possibile ammirare una moltitudine di insetti, in particolar modo 35.000 cicale, pensate un po'. Interessante anche le sezioni dedicate ai 100 anni del trasporto marittimo municipale e la sezione dedicata alle nape, la tribù dei nativi d'America che popolava questo territorio.